Ben arrivati in Tribe, io sono Davide, sono il fondatore di questa azienda e oggi sono qui per offrirti un'opportunità. Io mi ricordo che ho iniziato a suonare il pianoforte intorno ai 4-5 anni, ma verso l'età adolescenziale mi sono messo a guardare le videocassette delle mie rock band preferite e da lì mi è venuta una voglia pazzesca di imparare a suonare il basso e la chitarra. Mi ricordavo proprio in quel periodo che c'erano un basso e una chitarra abbandonati da alcuni parenti nella cantina dei miei genitori, strumenti a cui fino a quel momento non avevo dato la minima importanza, però guardando queste videocassette mi sono gasato e ho detto ma che figata, voglio provare anch'io. Quindi sono sceso, sono andato in cantina e ho preso il mio miglior amico, gli ho messo in mano il basso e gli ho detto tu da oggi suoni il basso e io suono la chitarra e da qui nasce la nostra rock band. Poi mi sono innamorato del basso, mi sono iscritto a dei corsi, ho trovato dei maestri sia di chitarra che di basso però mi ricordo che all'inizio sono andato avanti settimane se non mesi a suonare questa chitarra scordata perché non sapevo nemmeno accordarla e non sapevo montare le corde, per cui sono andato avanti tempo a suonare così un po' a casaccio, dopodiché appunto quando mi sono iscritto chiaramente il mio maestro di chitarra o di basso mi hanno aiutato a montare le corde eccetera eccetera. Ogni volta che avevo bisogno di montare le corde mi affidavo a loro. Poi chiaramente nel tempo abbiamo messo in piedi una band, ci siamo migliorati sia per quanto riguarda diciamo il lato tecnico sullo strumento sia per quanto riguarda il sound della band, abbiamo raggiunto buoni risultati abbiamo fatto concerti anche abbastanza grossi, però mi ricordo che comunque il problema all'epoca rimaneva il settaggio dello strumento. Infatti cosa facevo? Mi riducevo sempre al pomeriggio prima del concerto che avrei avuto la sera con la mia band a cambiare le corde, ero proprio pigro. Poi devi considerare una cosa, avevo un liutaio a 50 km, non avevo la macchina, dove abitavo non c'erano i mezzi per cui non era proprio facile andare dal liutaio e non c'era nemmeno internet per cui l'accesso alle informazioni che abbiamo oggi non era così semplice. Quindi la cosa era un po' frustrante, avevo voglia proprio di imparare e mi riducevo al sabato pomeriggio, magari prima di suonare la sera, a cambiare le corde e io mi ricordo che quando suonavo la chitarra dovevo cambiare le corde alla mia Ibanez con il Floyd Rose e avevo paura perché mi chiedevo chissà se rimarrà accordata, chissà se si romperà qualche corda chissà se la sto montando bene, poi montavo le corde, il Floyd non rimaneva accordato, come lo toccavo si scordava oppure finivo di montare le corde e rimaneva impennato in questa posizione, insomma un sacco di problemi e questa cosa non mi piaceva e da lì ho capito che un musicista, un po' come il poliziotto, sa smontare, lubrificare, pulire e rimontare la sua arma un musicista deve conoscere nel dettaglio il proprio strumento. Questo perché fa parte del tuo bagaglio di conoscenza fa parte della tua professionalità, della tua preparazione e anche perché come ti dicevo nel video precedente devi essere in grado anche nella situazione più critica di poter gestire un problema sullo strumento quindi diciamo questo è un po' il concetto di questo video. Io appunto nel tempo poi quando ho iniziato a fare il giutaio professionista ho sentito il dovere di trasmettere comunque qualcosa, ho iniziato a pubblicare dei contenuti gratuiti sui social contenuti che hanno poi portato le persone a chiedermi se potessi organizzare un qualche corso per insegnare appunto il settaggio dello strumento piuttosto che qualche piccola riparazione. Ho pensato che fosse un'ottima idea e credo di aver trovato il modo per insegnarti seguendoti passo dopo passo nel mio intero metodo per imparare a settare lo strumento ho trovato appunto questa soluzione che si chiama Tribe Camp. Il Tribe Camp che cos'è? È una giornata nella quale ci troviamo qua in Tribe, in questa sede dove tu verrai la mattina presto, inizieremo a settare lo strumento e ti seguirò proprio passo dopo passo insegnandoti la sequenza esatta per avere il settaggio perfetto del tuo strumento perché devi sapere che per avere il settaggio perfetto dello strumento c'è un'esatta sequenza di azioni che devi seguire dall'inizio alla fine, è quella e non bisogna cambiarla. Io vedo tantissimi ragazzi che iniziano magari cambiando le corde, poi alzano le sellette, poi non va bene perché frusta poi toccano il Thrust Road, poi abbassano la selletta, poi ritoccano il Thrust Road 6-7 volte dopodiché non ci capiscono più nulla e lo strumento rimane di così. Io posso insegnarti se vorrai chiaramente, ripeto non è un video dove io devo cercare di convincerti ma sei tu che devi essere consapevole del fatto che se vuoi essere più completo questa è un'opportunità che puoi prendere, cavalcare. E quindi diciamo ho avuto innanzitutto dei ragazzi che sono venuti a fare questo camp e loro stessi sono rimasti strabigliati dal fatto che in un giorno, in un giorno è possibile imparare a settare il tuo strumento e lo setti esattamente come piace a te, secondo le tue necessità, secondo il tuo gusto. Questa è la cosa importante. Questo che cosa comporta? comporta il fatto che tu non avrai più bisogno di andare dal liutaio per fare un cambio corde o un settaggio perché io ti insegnerò tutti i passaggi. Chiaramente poi se avrai bisogno di una rettifica piuttosto che interventi diciamo più complicati ovviamente il liutaio sarà sempre il tuo punto di riferimento. Però per quanto riguarda il tuo bagaglio di musicista secondo me questa è una bella opportunità perché ti dà appunto la possibilità di diventare più completo. Poi di che cosa si tratta? Si tratta appunto di questa giornata dove noi saremo qui a lavorare, io ti seguirò, tu avrai una postazione di lavoro con tutti gli attrezzi necessari, io starò vicino a te dall'inizio alla fine. Il tutto si svolge in un weekend con un bonus. Il bonus è la masterclass poi la domenica mattina di Luca Angelici. Con Luca si parla veramente di tutto, dell'attività bassistica, di tecniche, di suono, di come fare un suono per un determinato basso, per un determinato stile, come suonarlo. Insomma si tratta veramente di una giornata incredibile e questo è un bonus che ti regalo io nel pacchetto del Tribe Camp. Che cosa succede? Oltre a questo tu hai la possibilità di lavorare con altri bassisti, altri ragazzi che hanno la tua stessa passione e quindi potrai allargare la tua conoscenza, confrontarti con loro ed entrare nella nostra comunità che è una grandissima famiglia che si chiama La Tribù, dove all'interno ci sono tantissimi musicisti con cui scambiarsi esperienze, foto, video, trovarsi a mangiare la pizza, perché no? Magari trovare collegamenti per suonare con nuove persone. Insomma è un'opportunità a 360 gradi. Ora sta a te decidere se partecipare o meno. Sotto a questo video puoi vedere appunto cosa ne pensano i ragazzi che hanno partecipato al camp precedente e niente, che dirti? Nulla di più, secondo me non devo convincerti a fare niente. Devi solamente valutare tu, sapere tu se questa cosa può farti piacere, può servirti. Io sono sicuro che possa servirti e devi sapere che però noi apriremo le iscrizioni per un periodo veramente limitato perché i posti sono pochi e ogni camp, io ci tengo a questa cosa, deve essere organizzato nel minimo dettaglio, deve filare liscio, non ci devono essere intoppi per cui per pochi giorni, essendo pochi i posti disponibili, apriremo il carrello per acquistare questo pacchetto. Quanto costa il pacchetto? Il pacchetto in realtà in sé non costa niente, nel senso che tu con questo pacchetto avrai un bagaglio di conoscenza e di esperienza che prima non avevi e soprattutto non avrai più bisogno di andare a spendere soldi da un liutaio per un semplice cambio corde o per un setup perché tu ad ogni cambio stagione, ogni volta che avrai la necessità di fare un settaggio, sarai in grado di settare il tuo strumento. Oltre a questo ti insegnerò a fare piccole riparazioni come lucidare la tastiera, lucidare, pulire i tasti, oliare i tasti, riparare il capo tasto, fare il capo tasto eccetera eccetera eccetera. Ci sono diverse argomenti che andremo a toccare in questo corso. Ti garantisco che in un giorno tu sarai in grado di settare il tuo strumento e la prova nel fatto che quello che dicono i ragazzi sotto a questo video non lascia assolutamente alcun dubbio per cui se vuoi partecipare non devi fare altro che leggere il programma che vedi sotto, guardati i video dei ragazzi, io sono a tua disposizione e se deciderai potrai cliccare sul bottone acquista e noi saremo qui ad aspettarti a braccia aperte per passare un weekend in un'atmosfera amichevole, familiare. Ci appoggeremo ad un agriturismo fantastico qua vicino alla sede di Tribe dove si mangia veramente da paura, si sta benissimo, si dorme bene e di giorno staremo insieme. Si tratta di due giorni, è un weekend sabato e domenica. Il sabato dalla mattina alla sera faremo il setup e la domenica mattina ci sarà il bonus della masterclass di Luca Angelici. Quindi se vuoi partecipare io ti aspetto, se invece tu pensi di sapere già tutto, di essere in grado di settare il tuo strumento, questo video non fa per te, ok? Non devi assolutamente venire se tu reputi di essere già capace di fare tutto, non ti preoccupare. Questo video è per chi vuole crescere, vuole conoscere nuove persone che hanno la sua stessa passione e ha voglia di arricchire il proprio bagaglio di musicista, ok? Con questo è tutto, io ti ringrazio e spero di vederti presto al camp. Ti abbraccio, a presto! Grazie!